Tutti a tutti e benvenuti a Eboli per questa seconda giornata di questo incontro organizzato appunto come diceva Rosa nella sua introduzione dal Laboratorio del Sud. Io mi ricollego alle cose che ha appena detto Rosa perché in parte ne abbiamo già parlato ieri in una sessione particolarmente riuscita, devo dire che ha dato anche un sacco di spunti e di approfondimenti che poi saranno da cogliere per il lavoro che ci attende tutti quanti insieme nei prossimi mesi. In questa drammatica fase storica che stiamo vivendo tra guerra, pandemia, carestia, c'è l'urgente bisogno in Italia di capovolgere la prospettiva geografica. Chiaramente questo in ottica euro-mediterranea ed iniziare a operare politicamente per imprimere una grande spinta da Sud al fine di controbilanciare la logica che da più di 160 anni prevale e mantiene ogni centro di potere finanziario, politico e culturale al nord del paese e che vede il mezzogiorno solo come una colonia interna estrativa. Devo dire che anche ieri in un paio di interventi ho colto questo aspetto con molto piacere. È ovvio che questo può avvenire dal nostro punto di vista solo in un'ottica marxista e deve necessariamente fare leva con chi non è compromesso da decenni di connivenza politica e finanziaria con il cosiddetto asse del nord. asse, asse Emilia Romagna Veneto è una parola che è stata usata recentemente dal governatore dell'Emilia Romagna Bonaccini quindi anche nel linguaggio, un linguaggio sicuramente che ci avvicina ad altre esperienze dello secolo scorso non proprio parole di sinistra e quindi anche con la conseguente teoria della locomotiva che tutti conosciamo vi ricordo che quello che fa correre Milano o meglio quello che fa correre Napoli rallenta Milano la teoria della locomotiva al fine di dare una degna rappresentanza ai territori del sud creando una sinergia positiva con quelle forze progressiste presenti in tutta la penisola che troppo spesso non hanno voce sui media ma soprattutto per dare risposte concrete a tutti i cittadini del sud così come del nord. Il tutto ovviamente non in un'ottica revanchista ma solo in rispetto dei principi costituzionali di quella costituzione nata dalla resistenza parlo ovviamente della costituzione del 1948. Lo diceva Rosa, quello che sta succedendo con l'accelerazione impressa dalla ministra Gelmini sull'autonomia differenziata è emblematico di tutto questo. La ministra degli affari regionali ha prima ventilato sul Corriere del Veneto di voler mettere in soffitta i LEP, livelli essenziali delle prestazioni per poi procedere una decina di giorni fa con un vertice romano tra i solo presidenti delle regioni del nord per la condivisione definitiva della bozza di legge quadro sull'autonomia differenziata il cui obiettivo strategico è mettere in cassaforte quello che dal nostro punto di vista è il frutto di ritirati scippi perpetrati a costituzione rovesciata ai danni del sud grazie alla legittimazione definitiva del grimaldello della spesa storica questo senza nessuna condivisione preventiva del test di discussione in Parlamento ma tutto nelle segrete stanze. Io ricordo le parole di Gramsci a questo proposito poche mani non sorvegliate da controllo tessono la tela della vita collettiva e la massa ignora perché non se ne preoccupa o come in questo caso perché nessun media ha mai approfondito il tema spesso preoccupandosi più di blandire i governanti che non denunciare lo stato delle cose in poche parole se la cantano e se la suonano da soli esautorando il Parlamento, le regioni meridionali e i cittadini voglio specificare questo perché mi è capitato più volte di affrontarlo anche durante recenti competizioni elettorali chi si richiama agli articoli 116 e 117 della Costituzione per affermare che l'autonomia differenziata va realizzata spesso dimentica di dire che la definizione dei LEP attende da sempre dalla modifica del titolo quinto del 2001 anche loro sono previsti articolo 117,2 lettera M ma non si capisce quindi perché debbono attendere ancora in soffitta questa è la certificazione che con questa ennesima forzatura chi ha avuto avrà sempre di più a danno di chi non ha avuto e con tutta evidenza per volontà politica continuerà a non ricevere verrebbe così affermata alla fine di quanto previsto nella prima parte della Costituzione cioè dei cittadini italiani tutti con gli stessi diritti per cedere il posto a una doppia cittadinanza di serie A al nord e serie B al sud è un anticipo di presidenzialismo grazie ai governatori autoprogrammati governatori prossimo venturo anche nazionale nessuno però si chiede chi risponderà del carico del debito pubblico oltretutto è un debito destinato ad aumentare visto che un'ampia quota del PNRR è da restituire mentre Open Police avvisa che nemmeno il già ridotto rispetto alle indicazioni dell'Unione Europea 40% dei fondi PNRR dal sud destinati al sud sarà rispettato visto che ad esempio i ministri leghisti Giorgetti e Garavaglia ma anche i due ministri del PD devo dire perché si è giunta questa nota proprio ieri non rispettano il vincolo del 40% di risorse da destinare al sud quindi anche per iniziare a discutere della necessità di una rappresentanza politica a schiena dritta per il mezzogiorno il laboratorio permanente per la riscossa del sud l'ha già ricordato Rosa prima con collaborazione tra Left Transform partito della rifondazione comunista del partito del sud ha organizzato oggi a Eboli questa ieri oggi questa questo appuntamento assembleare ricordo che il laboratorio del sud è già da tempo da tre anni che opera attivamente ricordo che abbiamo prodotto una carta dei diritti del sud lettera aperta al ministro al precedente ministro del sud a questo francamente mi sembrerebbe abbastanza all'attuale abbastanza inutile lettere aperte ai deputati meridionali del libro lezioni meridionali che potete trovare nel banchetto partecipazione a tanti tavoli come a quello nazionale dell'autonomia differenziata oggi tra l'altro interverrà da remoto Marina Boscaino che è appunto la coordinatrice di questo tavolo quello che iniziamo oggi è il secondo dei due giorni di confronti dibattito e approfondimento tra parlamentari che sono anche oggi presenti e che ringrazio politici rappresentanti di realtà organizzate meridionali europee giuristi storici studiosi docenti universitari per iniziare a discutere di come strutturare un'opposizione di sinistra da sud a Draghi e alle sue logiche di governo è ovviamente un questa del laboratorio sud un'esperienza aperta a tutti e a tutte tutti quanti lottano per i diritti negati e le offese recate al sud ma io direi a tutti i cittadini dal sud al nord perché l'autonomia differenziata è dannosa anche per i cittadini del nord in modo in modo particolare diciamo per quelli più le classi ecco una brutta parola che però andrebbe un attimo rivalutata le classi più deboli con le privatizzazioni che si porta che si porta dietro non a caso noi cerchiamo di agire come sempre anche concretamente inserendoci anche nelle lotte dei territori e oltretutto non a caso collaborando con il gruppo parlamentare manifesta anche oggi qui presente con una rappresentanza sia della Camera che del Senato e abbiamo operato proprio su questi temi dei LEP in soffitta presentando grazie alla capogruppo Simona Suriano Ayana Elm e anche al gruppo controfirmata anche dal gruppo da alcuni parlamentari del gruppo di alternativa quindi grazie alla capogruppo Simona Suriano un'interrogazione parlamentare sul tema concludo abbiamo il compito di creare comunità ribelli con il cappello in testa partendo dalla difesa del territorio dai bisogni individuali per un'autoorganizzazione collettiva in contrapposizione al modello di sviluppo capitalistico e al draghismo imperante che ora abbandonati i diplomatismi è definitivamente entrato in guerra commissariando Costituzione e Parlamento c'è chi vorrebbe vedere lentamente morire la Repubblica parlamentare nata dalla resistenza per far posto a una tecnocratica Repubblica presidenziale del migliore mentre i dati Istat degli ultimi anni pongono in evidenza come i divari territoriali e sociali cioè di classe da anni si stanno sempre più approfondendo mentre larghe parti della politica politicante ha perso il senso della realtà lo vediamo nella cronica di tutti i giorni e dello stato sempre più precario delle condizioni di vita della cittadinanza che si dibatte ogni giorno fra rincari inflazioni bollette astronomiche salari da fame precarietà mancanza di servizi tasse e miseria incombente bisogna quindi lavorare tutti insieme per quell'alternativa che spazi via presto tutta questa putredine consociativa ripristinando nel paese una condizione minima di decenza politica informativa partendo dalla consapevolezza dei propri diritti di cittadinanza io ho concluso ripasso la parola a Rosa Dinaldi che coordina il dibattito e vi ringrazio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti